No, no, solo con il finestrino. Solo con il finestrino, dunque ti leggerai dentro, ti leggerai lì, ti leggerai, tu e poi se hai bisogno di spostarli, ti vieni a rinforzare. Quindi se al sol fosse magari... ...e non viene... ...canda il 139 di presto. Ahahahah, è vero. Grazie, perché... ...pavaro. No, no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.